Gli orizzonti della società italiana e le prospettive del cammino sinodale. Il Cardinale Bassetti, nell'introduzione ai lavori del Consiglio Permanente della CEI, punta l'attenzione sul momento che la Chiesa è chiamata a celebrare, quello del sinodo che si aprirà in tutte le diocesi il mese prossimo, da vivere con stile paziente e umile, e lo fa inquadrando il contesto in cui è immersa la comunità cristiana. A partire da una campagna vaccinale anti-Covid, strada per salvare tante vite umane che sia presupposto di una ripresa economica che salvaguardi i diritti dei lavoratori e tenga insieme crescita e sostenibilità ambientale e recuperi le tante ferite non ancora rimarginate. Il nuovo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale conferma che quasi uno su tre dei nuovi poveri del 2020 si è rivolta ai centri Caritas anche nel corso del 2021. Un'occasione storica, secondo il Presidente dei Vescovi italiani, è costituita dal nuovo assegno unico per i figli, uno strumento che deve però godere di una dotazione finanziaria adeguata. Per scaldarsi dal freddo dell'inverno democratico, infatti, serve un modello di sviluppo chiaro nei principi e negli indirizzi di fondo che sappia non solo farsi carico, ma armonizzare in un quadro organico le varie stagioni della vita. Suscita invece grave inquietudine nella Chiesa italiana la campagna referendaria per depenalizzare l'omicidio del consenziente. C'è una contraddizione stridente purtroppo tra la mobilitazione solidale che ha visto un Paese intero attivarsi contro un virus portatore di morte è un'iniziativa che, a prescindere dalle intenzioni dei singoli firmatari della richiesta referendaria, propone una soluzione che rappresenta una sconfitta dell'umano. Non manca poi uno sguardo alla realtà globale, in particolare alla situazione afghana per cui la CEI, oltre a ribadire la propria disponibilità all'accoglienza dei profughi invita la comunità internazionale a farsi garante della pace nel Paese e ai governanti di Kabul perché garantiscano i diritti umani e l'ingresso degli aiuti umanitari per i bisognosi.